Ma questo ormai fa parte di una certa narrazione e io ormai ci sorrido sostanzialmente un troglodita e io sono orgoglioso di mangiare panini con la salamella, la polenta, mi autodenuncio. Oggi a pranzo mi son fatto due etti e mezzo di pizzoccheri col burro e l'aglio. È un messaggio che voglio dare alle borse cinesi e americane. Il misto dell'interno si è fatto due etti e mezzo di pizzoccheri che nuotavano nel burro e avevano spicchi d'aglio grossi così. Sì, è un dramma ma è stato così e ci ho aggiunto del vino rosso della Valtellina, crepi la varizia.